Antenna 3 Oltre 8.700 telespettatori e 438.000 contatti giornalieri contro i 7.900 circa registrati in Puglia da Telenorma con i suoi 386.856 contatti. Supera Videoline, emittente Sarda che registra un ascolto medio di 8.495 telespettatori e quasi 360.000 contatti. Davanti anche alla campana Canale 21 con un ascolto medio di 6.963 telespettatori e 378.000 contatti e la Meneghina, Tele Lombardia, che si ferma ad un ascolto medio di 6.259 spettatori e 399.000 contatti. Un mese intenso, quello di luglio, sul fronte delle notizie e che conferma il gradimento record per Antenna 3, già leader indiscussa a Nord-Est. L'emittente che ha infranto ogni record non ferma mai la propria opera di informazione autorevole, puntuale e apprezzata dal grande pubblico ogni giorno con i telegiornali e gli approfondimenti a firma delle redazioni del Network Media Nord-Est. Un nuovo record che dobbiamo ancora una volta a voi, a chi sceglie quotidianamente, di mantenere l'indissolubile legame con Antenna 3 e fare luce su problemi, opportunità, eccellenze e la voce dei cittadini di un territorio che tiene al proprio sviluppo. Ne è parte anche il successo di Antenna 3, ora anche prima a televisione regionale d'Italia. Grazie.